Ciao, buonasera a tutti, grazie per essere oggi qui a questo webinar. So che in questo periodo tutti siete molto impegnati con tutto il discorso della campagna, il MAIS, tutto quello che c'è adesso, quindi vi ringrazio per la partecipazione e spero sia di aiuto anche interessante per voi. Io sono Roberto Fernandez, sono veterinario spagnolo, lavoro sia in Spagna che in Italia già da qualche anno e sono consulente per la SEMEX Italia. Oggi sono qua, qui, per presentarvi un nuovo prodotto che abbiamo cominciato a distribuire in Italia, i Taricaps, che è un volo per maximizzare l'efficienza economica del periodo dell'asciuto. Crediamo che è un prodotto molto interessante, è un prodotto nuovo in Italia, ma già fa da qualche anno che stiamo utilizzandolo in Spagna e anche in altri paesi come la Francia. Noi in Spagna sarà già più di due anni che stiamo utilizzando questo volo e abbiamo ottenuto, la verità, molto buoni risultati. Abbiamo già tanti clienti che lo stanno utilizzando in modo regolare su tutte le bacche che vanno in asciuta, con un ritorno economico molto importante. Qui in Italia veramente fa poco che abbiamo partito, farà già qualche settimana, ma i primi risultati siamo molto contenti. Il feedback dell'elevatore è molto buono. Stiamo vedendo come si asciugano le bacche, la messa in asciuta corretta, come stanno partendo, questo periodo. Ma è vero che alla fine è un prodotto che è molto provato già. Noi l'abbiamo provato già da tanti anni e alla fine è uguale provarlo nella Spagna che nell'Italia. È un prodotto già che è andato un po' avanti. Bene, così in questo webinar voglio fare una presentazione partendo un po' del discurso legale, soprattutto rispetto all'asciuta selettiva, che sapete che da inizio dell'anno ha partito già il regolamento nuovo europeo, per quello dobbiamo mettere in asciuta già in modo regolare. già non è una raccomandazione, già è un obbligo legale. Per quello vedremo un po' come è la situazione di oggi, come è l'attività di questo prodotto e come influisce a l'ora di partire con l'asciuta selettiva a migliorare questo periodo nelle nostre bacche, migliorare il ritorno al nuovo parto, anche aumentare il rientro economico delle aziende. Partiamo con il webinar. dire che il webinar penso che non metterà tantissimo tempo, media oretta più o meno, e allo lungo del webinar, se ci sono delle domande, di dubbi, potresti metterlo sul chat, che si vede nel link, e poi alla fine facciamo un discorso di domande e risposte, cercando di rispondere a tutti i dubbi che saltano, altrimenti nei prossimi giorni, tramite il vostro rappresentante, CEMEX della zona, potresti anche girare domande o dubbi sul prodotto, ma tutto quello che vi viene in mente potresti metterlo sul chat e lo vediamo alla fine. Bene, partiamo con il discorso del Taricaps e iniziamo con il discorso legale, come abbiamo detto. Tutto questo, il discorso della sciuta selettiva, parte del Regolamento europeo 2019-6 del Parlamento europeo, che nell'articolo 107 dice che i farmaci antimicrobici non verranno utilizzati a fine profilattici se non in casi eccezionali. Cosa vuol dire? Che secondo questo regolamento, adesso, per fare un trattamento antibiotico sulle nostre vacche, solo può essere quando abbiamo identificato la malattia. Non potremo utilizzarlo mai in modo profilattico o preventivo. Per il nostro settore, fino ad adesso, il discorso di antibiotici sulle vacche da latte era una cosa molto controllata. Non possiamo produrre latte utilizzando gli antibiotici. Comunque, ancora sulle vacche asciute e sui viteli stavamo utilizzando certi protocolli in modo a tappeto su tutti gli animali con gli antibiotici. Per esempio, trattamento di cocidi sui viteli, trattamento di cripto sui viteli e sulle vacche asciute stavamo facendo i tubetti di antibiotici. È vero che alcune aziende avevano partito con il discorso dell'asciuta selettiva, ma ancora su una percentuale bassa di animali nella mandria. Adesso, con questo nuovo regolamento, solo possiamo fare l'asciuta con antibiotico con un campione dietro per identificare la malattia e un antibiogramma che ti dici che tipo di antibiotico puoi utilizzare. Quindi, adesso l'asciuta selettiva dal 28 di gennaio di questo anno ha partito già in modo di obbligo per tutte le aziende. secondo loro dicono che le carenze nel management, nelle strutture, nell'ambiente, nell'alimentazione delle nostre aziende non possono essere salvate con l'uso indiscriminato di antibiotici. E la verità è che hanno in parte ragione. Tante volte abbiamo trovato nell'azienda che per problemi soprattutto di benessere, di gestionale, di protocolli, stavamo utilizzando l'antibiotico perché sapevamo che senza antibiotico ti arrivavano tanti problemi nelle nostre vacche asciute. Quindi dobbiamo pensare che dobbiamo cominciare a lavorare con altri tipi di protocolli. Dobbiamo sistemare questi punti critici e ogni volta utilizzare meno antibiotici. Per vedere un po' come la situazione nell'Europa al discorso dell'asciuta selettiva, dire che al nord dell'Europa, nei paesi del nord dell'Europa, quando ha partito questo regolamento già stavano asciugando meno del 5% delle vacche con antibiotico. Loro stavano lavorando sul discorso dell'asciuta selettiva da tanti anni e la verità stanno ottenendo dei buoni risultati sia a livello percentuale di mastiti in amandria, numero di cellule. Poi ci sono altri paesi che hanno cominciato un po' più tardi tipo la Inglaterra o la Olanda tra 5 e 10 anni che stanno lavorando su questo discorso e oggi stanno asciugando meno del 30% di animali con antibiotici. Quindi stanno già un passo molto avanti. E poi al sud dell'Europa ancora stavamo utilizzando più del 30% delle vacche asciugate con antibiotici. Ancora abbiamo tanta strada da fare per arrivare a un discorso di asciuta selettiva importante. Fino adesso erano casi puntuali un'accento sì, 10 no, quella che asciugava in modo selettivo solo faceva su un 20% delle sue vacche. Quindi ancora abbiamo tanta strada da fare. Ma la domanda è se siamo pronti per fare il salto, se siamo preparati per cambiare da un'asciuta tradizionale a un'asciuta selettiva senza antibiotico. Perché sempre ci arriva il dubbio se avremo più mastiti, se aumenteranno tanto le cellule, se dovremmo mandare in macello più vacche al parto perché ti arrivano con un mastiti al momento del parto quando l'abbiamo messo in asciuta in modo corretto. Questo dubbio c'è. Ma per arrivare a ottenere un risultato corretto dobbiamo valutare a che punto ci siamo sulle vacche asciute e cosa dobbiamo cambiare. Di solito noi quando giriamo nell'accenda e facciamo la valutazione dei protocolli, dei punti critici che ci sono per migliorare l'efficienza, stiamo trovando nei gruppi delle vacche asciute che in generale l'alimentazione è abbastanza giusta. Negli ultimi anni siano i tecnici che gli allevatori abbiamo imparato tanto sui bisogni delle nostre vacche in questo periodo, sia a livello integrazione, sia a livello energetico, sia a livello proteico. Quindi in generale quando facciamo una valutazione del periodo di asciuta non ci sono delle grandi carenze a livello alimentare. Quando ci sono sappiamo dove ti arrivano ma più o meno abbiamo dei protocolli giusti. Poi ci troviamo con il confort, il benessere. In questo punto siamo un punto intermedio, abbiamo una gestione un po' regolare. Perché? Perché lavoriamo negli due estremi. Da una parte ci troviamo delle aziende che hanno delle belle strutture nuove per le vacche asciute con un benessere ottimale, ma dall'altra ci troviamo ancora tante aziende che le vacche in latte sono una struttura nuova. Abbiamo fatto una struttura molto buona per le vacche che stanno producendo latte ogni giorno. Comunque le vacche asciute e le vitelle ancora sono una struttura vecchia perché alla fine crediamo che come noi stanno facendo latte non hanno bisogno di un benessere alto. Così mettiamo le vacche asciute nelle strutture con meno ventilazione, meno luce, cucette più vecchie, anche qualche volta le cucette sono distrutte, meno accesso al cibo. Così il discorso con Fora ancora sulle vacche asciute dobbiamo andare un po' più avanti perché ancora ci sono tante aziende che hanno un benessere deficiente. E poi per ultimo quello che ci troviamo è una gestione abbastanza inefficiente nelle aziende ma inefficiente nel senso che forse ne abbiamo spreso in considerazione ancora la importanza di questo periodo sul reddito finale dell'azienda. inefficiente quando dico questa parola mi riferisco a che a volte stiamo utilizzando questo periodo per correggere altri problemi della stalla. Per esempio se noi abbiamo un problema di sopie vacche che hanno le cellule alte che ti fanno tribulare tanto la mandiamo in asciutta così la mandiamo in asciutta e poi già ci pensiamo quando ritorna dopo il parto. Quando abbiamo una concentrazione di parti per la stagionalità a volte quando ci sono pochi parti rimangono le vacche in lattazione fino agli otto mesi perché abbiamo bisogno di animali da mungene poi quando ci arriva un colpo di parti forse mandiamo in asciutta le vacche gravi di 4 mesi perché abbiamo bisogno di posti per le vacche in latte. Quindi è un periodo nelle nostre vacche che noi stiamo gestendo con la idea in testa dell'efficienza economica finale. Così l'asciutta selettiva alla fine è un protocollo che funziona l'abbiamo visto nei paesi del nord dell'Europa che stanno ottenendo dei buoni risultanti ma prima forse dobbiamo lavorare per sistemare qualche punto critico che abbiamo nelle nostre accende e soprattutto cercare di utilizzare i nuovi strumenti che abbiamo in mano per affrontare questo periodo e qua è dove ci arriva il discorso del Tari Caps il volo che stiamo utilizzando per aumentare l'efficienza del periodo d'asciutta nelle nostre accende Per parlare del lavoro di questo volo del Tari Caps dobbiamo partire dall'inizio quando facciamo la messa in asciutta delle nostre vacche la paura più grande che abbiamo quando mettiamo una vacca in asciutta è vedere la vacca con la mamela gonfia perdendo il latte questo è lo peggio che possiamo trovarci nei primi due tre giorni dove mettere la vacca in asciutta perché sappiamo in modo veloce che stiamo aumentando tanto i rischi di infezioni come la mastiti e le cellule perché alla fine un scarso svuotamento della mamela quello che ti porta è aumentare la pressione fare una perdita importante del latte quindi non si fa bene la chiusura della mamela e non si forma il tappo di creatina sul capezzolo e una via d'entrata per tutti gli agenti patogeni ma tutto questo lo stiamo guardando quando sappiamo che noi stiamo utilizzando antibiotico sulle nostre vacche quindi prima ci trovavi una vacca così ma c'era con antibiotico e pensavi almeno qualcosa farà forse ci salviamo ma adesso quando troviamo un animale così senza l'antibiotico dentro sappiamo che il rischio di infezione sta aumentando esponenzialmente questo grafico è quello che ti indica un po' che possiamo utilizzare per vedere il rischio della messa in asciutta senza antibiotico e poi il lavoro di questo prodotto dobbiamo pensare che più della metà delle nuove mastiti che ci troviamo all'inizio della lattazione ti arrivano tutte nel periodo dell'asciutta con un differente rischio in ogni parte dell'asciutta in questo grafico si vede più o meno le tre parti del periodo d'asciutto la prima parte è la involuzione della mamela proprio al momento di metterla in asciutta poi c'è una parte che è più o meno tranquilla che è metà periodo d'asciutta e poi alla fine troviamo la parte del preparto quando cominciano a fare il colostro le nostre vacche bene in blu ti segna il rischio di mastitio di aumento di cellule si vede sul grafico che proprio nel momento della involuzione della mamela nei primi giorni nella prima settimana il rischio aumenta esponenzialmente per quello che abbiamo guardato prima per il discorso di avere una mamela gonfia che sta perdendo il latte e che non riusciamo a fare una mamela chiusa per evitare i patogeni esterni qua è dove dobbiamo spingere con i nostri protocolli per salvare questo picco dei rischi di infezione poi una volta che abbiamo passato le due prime settimane di asciutta il rischio è molto basso e aumenta un po' proprio prima del parto ma sempre il maggior rischio che abbiamo è il momento che mettiamo la bagna asciutta che è dove ci possono arrivare la maggior parte dei problemi a livello mastiti in questo punto è dove dobbiamo lavorare con il Tarikas con questo protocollo questo è un volo che sarebbe una sola applicazione un solo volo per vacca ma ha tre azioni diverse per massimizzare l'efficienza è un volo con una struttura molto nuova è un discorso completamente diverso ai voli tradizionali qua come si vede sul grafico sulla fotografia del volo c'è una prima parte che è in polvere che appena lo mettiamo sulla vacca si diluisce nelle prime ore è il primo meccanismo d'azione poi ci sono all'interno dei micro voli che si diluiscono nelle prime due settimane dell'asciuta e poi c'è un terzo volo più grosso che è un rilascio più prolungato che ti arriva fino ai 60 giorni quindi con questo tipo di tecnologia riusciamo a fare un'applicazione diversa in ogni fase dell'asciuta e trattare i problemi nel momento di più rischio così cosa fa questo volo dopo mettere il volo al momento di asciugare la vacca la prima parte che è in polvere si diluisce in questo nell'inizio di aumento della curva del rischio di mastiti ti fa un apporto di chelati vitamina E e estratti antiossidanti l'altra parte i micro voli si diluiscono nelle prime due settimane dell'asciuta ti apportano vitamina E anche nucleo di asciuta e un aumento dell'immunità e il terzo volo dura per 60 giorni ti fa un apporto di oligoalimenti e vitamine che ti permettono di coprire i fai bisogno più importanti in questo periodo e fare una preparazione al parto anche aumenterà la qualità del colostro così la prima parte che abbiamo visto del polvere fa un miglioramento dello svuotamento della mamela riesce a svuotare più velocemente la mamela così favorece la formazione del tapo di caratina nel canale del capezzolo la seconda parte i microvoli ti fanno un apporto di immunità e riducono l'infiammazione della mamela molto importante in questo periodo così ti fa una messa in asciuta ottimale e poi il terzo volo il grosso e come abbiamo visto ti fa la preparazione al parto e la qualità del polostro così guardando nella stessa scheda quali sono le funzioni principali del taricaps quando lo utilizziamo per asciugare le nostre vacche prima di tutto il più importante per evitare qualsiasi rischio di mastiti o cellule con la asciuta selettiva è che provoca un svuotamento molto veloce della mamela con un svuotamento per l'effetto antinfiammatorio che ti permette dopo l'ultima mungitura mettere il volo mandare la vacca in asciutta e proprio nei primi due o tre giorni tu vedi come la mamela piano piano diventa ogni volta più piccola non è gonfia non è rosa e la vacca sta molto meglio piano piano riesce a svuotare velocemente la mamela questo ti porta ad avere più benessere sulle nostre vacche asciute perché perché la vacca continua a mangiare fa la sua vita si corica senza problema gira non c'ha dolore nella mamela perché la mamela non è gonfia con pressione quindi la vacca sta meglio a molto meno stress questo è un punto importante che voglio sviluppare un po' di più perché noi in Spagna anche qua in Italia abbiamo provato altri prodotti per asciugare le vacche perché oggi ci sono un po' diversi prodotti in mercato per il discorso dell'asciutta soprattutto per il discorso di fermare la produzione di latte con la messa in asciutta qual è la differenza del taricab su altri prodotti di mercato tanti prodotti del mercato oggi stanno lavorando una composizione in base a sali anionici cosa fanno noi quando le mettiamo le sali anionici alla vacca nel momento di asciugarla provoca un'acidosis metabolica sull'animale quindi la vacca tra virgolette si blocca va un po' in asidosis e si ferma di mangiare quindi il caldo di ingestione di sostanza seca nei primi giorni della siutta è molto basso e per quello la vacca comienza a fare ogni volta meno latte e alla fine esgonfia la mamela in pochi giorni ma lo fa in un modo che ti provoca un stress perché la vacca non va a mangiare dimagrise va in stress quindi il benessere della vacca non è uguale che quando lavoriamo con un prodotto che fa un effetto antinfiammatorio ma che ti permette alla vacca di continuare a mangiare e a fare la loro vita senza problema il terzo punto è l'aumento di immunità delle vacche questo ci arriva da due parti da una parte di tutto il nucleo omeopatico che ha il bolo che vi farò vedere un po' più avanti che sono immunostimulanti così nel momento di più rischio di mastitio di cellule che come abbiamo guardato nelle prime settimane dopo la messa in asciutta questo ti fa una spinta sulla immunità così aumenta le difenze delle vacche frante i patogeni esterni questo è in modo diretto per il bolo anche otteniamo un aumento di immunità perché facciamo un svuotamento della mamela in una messa in asciutta migliorando il benessere della vacca perché le nostre vacche continuano a mangiare quindi da una parte stiamo spingendo in base al bolo per l'aumento di immunità e dall'altra parte le vacche si trovano mezzo perché continuano a mangiare quindi delle due vie ti permettono migliorare la fortalezza della vacca in questo primo periodo poi ti apporta un'integrazione di vitamine e minerali completa per tutto il periodo di asciutta che è una tecnologia di rilassio prolungato che anche come vedremo poi con la composizione di voli ti permette di portare in ogni fase dell'asciutta diversi quantità di ogni prodotto in base sui fai bisogni migliora anche la qualità del colostro ovviamente quando partiamo con i voli quello che si vede più velocemente è l'esbuotamento della mamela e quello che possiamo dire alla lavatoria nei primi due giorni tu quello che vedi è che la mamela proprio si svuota riusciamo a asciugare la vacca ma poi dobbiamo prendere in considerazione che tutta l'integrazione che stiamo mettendo sul volo ti porta a aumentare sia in quantità che la qualità del colostro infatti nella cena che stanno misurando la qualità del calostro per esempio ci dici io una media di 27 del colostro al parto su qualità vedi che le vacche asciugate con il taricap ti portano piano piano avanti e stai aumentando molto la qualità del calostro quindi riusciamo anche a migliorare la salute dei nostri vitelli e poi tutto sommato ti permette una partenza produttiva più forte e regolare nelle nostre vacche è molto pratico perché parliamo di una sola applicazione una sola applicazione proprio dopo l'ultima mungitura il protocollo ideale sarà fare l'ultima mungitura metterla in volo e mandarla in asciutta e quello che abbiamo visto da tanti anni le prove che abbiamo fatto nella Spagna è che ti permette un svuotamento veloce della mammella in 24-48 ore anche con alta produzione parliamo che abbiamo provato il bolo anche stiamo asciugando nelle aziende che stanno facendo terza mungitura con il robot tutto quello si stanno asciugando le vacche con 30 35-40 litri e tu proprio vedi che in due giorni la mammella si sta sgonfiando bene e tutto questo in base a cosa lo fa vi faccio vedere un po' così in modo veloce la composizione dei boli per capire un po' quali sono i principi attivi poi tutto questo discorso di composizione lo potresti anche trovare sulla scatola dei boli o tramite il vostro rappresentante della SEMEX vi può fare vedere tutte le schede con i principi attivi bene da una parte abbiamo la composizione del nucleo immunitario Terry Caps che in base a una base omeopatica con estratti di piante e di erbe così abbiamo una parte con la kinazia il lievito che è quello che fanno un effetto immunostimulante quello che abbiamo guardato sulla prima fase della sciuta per migliorare la resistenza delle vacche alle nuove infezioni poi c'è un extracto di un'alga bruna che è quello che ti fa un effetto antinfiammatorio sulla mammella per riuscire a sgonfiare velocemente la mammella e poi c'è la curcuma che ti fa un effetto antiossidante poi qua si vede la scheda totale del Terry Caps dove si vedono i componenti analitici con tutti gli additivi soprattutto un apporto molto alto di vitamina E e un apporto molto alto di nuovo l'alimenti tanti di questi l'alimenti vengono in base di chelati così miglioriamo anche l'assimilazione dell'alimenti qua c'è una scheda molto interessante che ti fa capire un po' la tecnologia di Terry Caps ti fa vedere il rilascio prolungato ma in diverse fasi, nel senso fa un relaxio prolungato ma non lo fa uguale dal giorno 1 al giorno 60. Così la vitamina E, vedi qua la prima colonna, i milligrammi per chilogrammo di prodotto che ti stanno portando come le oligoelementi, poi tu vedi, questi saranno i milligrammi per giorno i vacca. Così, la vitamina E, il primo giorno, quello che l'asea con il polvere che si diluisce velocemente, 2403 milligrammi il giorno 1, tra il giorno 2 e il giorno 15 nelle due prime settimane fa un rilascio di 650 milligrammi al giorno e poi dal 15 al 60, il bolo più grosso che abbiamo guardato, ti fa 53 al giorno. Poi lo stesso con il rame, zinco, magnesio, anche selenio. I vedi che anche i chelati sono di liberazione veloce nei primi giorni per l'effetto sia sgonfiare la mamela che aumentare la immunità. Poi se avete qualche dubbio, come aveva detto all'inizio, mettere tutti i dubbi, le domande sul chat che alla fine del webinar guardiamo e cerchiamo di risponderle tutte. Bene, così fino adesso abbiamo guardato un po' come lavorano questi voli, anche che vantaggi abbiamo così importanti per il discorso della città selettiva, prevenzione del rischio di nuove infezioni, aumento delle cellule e tutto quello. Ma abbiamo un secondo punto che voglio farvi vedere, che prende in considerazione anche l'evoluzione delle nostre aziende negli ultimi anni con l'aumento di produzione che stiamo trovando in giro. Qui vi faccio vedere un esempio di un'azienda standard. Noi abbiamo trovato tante aziende di questo tipo. Un'azienda che si vede che hanno una riproduzione non cattiva, sarà intorno a una media di quello che troviamo in giro, ma che ha ancora spazio per migliorare. Vedi che come intervallo parto consentimento abbiamo 153 giorni aperti, quindi non è una media molto mala, ma sì è vero che abbiamo spazio perché con 153 giorni aperti alla fine si sta allungando il periodo per ingravidare una vacca, che ti porta ad avere una curva di lattazione più lunga, quindi stiamo avassando l'efficienza produttiva delle nostre vacche, perché sono molto più giorni in lattazione di quello che sarebbe l'oggettivo. Questo ti porta ad avere i giorni in lattazione un po' alti di una media di latte settimanale normale. Cosa succede in un'azienda così quando cominci a sistemare un po' i suoi protocolli? Che se riusciamo a sistemare per esempio il discorso riproduttivo, caliamo l'intervallo parto consentimento a un oggettivo tra 110 e 120 giorni, quindi riusciamo a accorciare la curva di lattazione, sarebbe più efficiente, con una media più bassa di giorni in lattazione. Così alla fine la produzione del latte sale sia in quantità che con efficienza economica. Così ha più performance nel nostro azienda e stiamo trovando molta più produzione, ovviamente. E questa evoluzione la stiamo trovando negli ultimi anni e ha una velocità importante. Ma da questa parte è bello, perché abbiamo smicliorato il sistema riproduttivo, abbiamo giorni in latte più bilanciati e stiamo facendo più latte con meno costi. Andiamo bene. Ma cosa succede nelle bacche asciute? Nelle bacche asciute, quando prima con una riproduzione che non era così tanto a posto, ci trovavi che abbiamo una media di giorni in asciuta un po' alti, in questo caso erano 86 giorni, e con un percentuale di bacche asciugate più di 65 giorni del 54% di animali. Perché? Perché se abbiamo una curva di lattazione un po' lunga, alla fine ci sono delle bacche che calano in latte, ma ancora sono gravide solo da 4-5 mesi e devono andare in asciuta. Per quello abbiamo un periodo di asciuta un po' lungo. Ma quando sistemiamo la mandria e riusciamo a fare una curva di lattazione più efficiente, con più produzione, quello che ti trovi è che sì, che adesso abbiamo 60 giorni di lattazione, siamo nell'oggettivo come periodo di asciuta, ma ci cambia il discorso e cominciamo a trovarti tante bacche asciugate tardi. Nel senso, bacche che ci arrivano in 7 mesi di gravidanza, ma una produzione ancora alta e stiamo facendo veramente fatica a asciugare le bacche con tanta produzione. In più, questo già era un problema prima, ma adesso con la asciuta selettiva ancora peggio. Perché? Perché se noi stavamo facendo fatica suare una bacca con 30 litri, quando sappiamo che le mettiamo l'antibiotico preventivo, è un rischio. Ma se noi dobbiamo asciugare la stessa bacca senza antibiotico, ancora è peggiore. Questo ti porta che le aziende piano piano stanno calando i giorni di asciuta. In tante aziende stiamo trovando che una percentuale alta di bacche si stanno avvicinando dai 30 giorni in asciuta, perché prima non riescono a fare calare la produzione delle loro bacche. Stanno facendo 30, 35, 40 litri, ma per una settimana, due, anche con una dieta di fieno e acqua, non riescono a calare. Per quello, ogni volta stiamo facendo meno giorni in asciuta. Qual è il problema di fare meno giorni in asciuta? Che le nostre bacche non si recuperano in modo corretto per la prossima lottazione e alla fine ti fanno perdere produzione. Vi faccio vedere alcuni esempi. Sono aziende italiane che abbiamo visitato noi, sia io che il mio collega Bernazzale, che conoscete. Qua, per esempio, in questo discorso, questa tabla si vede a sinistra, per ongi finestra, i giorni in asciuta che hanno fatto le bacche di ongi gruppo. Il percentuale di animali, il numero di animali su 400 bacche in asciute, la media di giorni in asciuta di ongi finestra, 40, 50, 60, 70, 80, 130. La produzione è prevista a 305 giorni in questa lattazione, quindi una relazione tra i giorni in asciuta previ e la produzione attuale, sia a 305 giorni che a picco. E quello che si vede è che le bacche che vanno fuori della finestra ottimale tra 55 e 65 giorni in asciuta, quando asciugiamo meno giorni la produzione tende a calare. Nel senso, il massimo produttivo lo troviamo nella finestra ottimale, ma quelli bacche che non abbiamo riuscito a asciugare in tempo e abbiamo aspettato qualche giorno, qualche settimana in più, prossimo a la lattazione ti faranno molto meno latte. In questo caso abbiamo trovato 15 quintali di latte meno a 305 giorni e 7 litri meno a picco. Che tanto? Perché dobbiamo pensare che stanno facendo meno latte, ma con gli stessi costi alimentari di aziendali. Per quello abbiamo perso un'efficienza molto importante. Qua vi faccio vedere un altro esempio che succede lo stesso. Questo fatto con un altro programma, questo sarà la produzione a 305 giorni in base ai giorni in asciuta precedenti. E vediamo lo stesso. E le bacche che producono di più sono quelli che hanno fatto un'asciuta nella finestra ottimale. Comunque, le bacche che sono asciugate pochi giorni o molti giorni, quanto più ti allontani della finestra ottimale, più produzione stiamo perdendo. Devo dire che quando guardiamo questi tipi di grafici, dobbiamo prendere in considerazione che quello che è a destra del grafico sono le bacche che sono asciugate in anticipo. Nel senso, bacche che sono asciugate con 4, 5, 6 mesi di gravidanza. In questo caso possiamo dire che il problema è della vacca. Perché? Perché sono animali che hanno calato la loro produzione, che hanno fatto tanti giorni in latazione, perché hanno avuto un problema di una soppia, perché hanno qualsiasi cosa che fa calare la produzione. Quindi abbiamo una vacca gravida che ha calato la produzione, ma non la mandiamo in macello. Ovviamente cerchiamo di recuperarla e la mandiamo un po' prima in asciuta. Comunque, in questa altra parte del grafico, a sinistra, il problema non è della vacca, il problema è dell'allevatore. Nel senso, qua sono le vacche che non hanno dato in asciuta per decisione dell'azienda, non per un problema della vacca. Alla fine, siamo noi che non abbiamo riuscito a asciugare le vacche. Piano piano, quanto più avanti vanno, meno latte faranno nella prossima latazione. E anche un altro esempio, questo valutato in un altro programma. Qua si vede lo stesso. La massima produzione in questa azienda, in concreto, era tra 70-80 giorni, più o meno uguale tra 50-70, ma le vacche tra 40-50 giorni che si avevano asciugato 7-10 giorni in ritardo stavano perdendo 10 quintali di latte. Quelle che si avevano asciugato tra 30-40 giorni stavano perdendo 14 quintali di latte. Quelle che si avevano asciugato meno di 30 giorni, perché alla fine parliamo di un'asciugato di 28-30 giorni, stavano perdendo 30 quintali di latte. Ma questo che sembra molto all'estremo, se voi nelle vostre aziende guardate vacca per vacca i giorni che stanno facendo davvero in asciugato, vedrei che ci sono già una percentuale importante di vacche, soprattutto dove stiamo facendo l'asciugato selettiva, che si stanno avvicinando tanto ai 30 giorni di asciugato, perché è complicato fare calare il latte prima. Per quello, in questo punto, è dove parliamo che anche il Tari Caps ti fa un aiuto importante. Perché alla fine il Tari Caps ti sta permettendo di asciugare le nostre vacche. Primero, in modo sicuro, per tutto il discorso dei rischi che abbiamo di mastiti e di cellule all'inizio dell'asciuta. E poi ci permette anche di asciugare le nostre vacche al momento giusto, nel momento che dobbiamo asciugarla per fare una finestra optimale di giorni in asciuta e così maximizzare la produzione di latte nella prossima lactazione. Così stiamo trovando un importante ritorno economico con questo protocollo. Devo dire che il discorso di asciugare le vacche al momento giusto sarà importante anche se una vacche stiamo tratando con antibiotico. Mi spiego. Noi stiamo utilizzando il Tari Caps, abbiamo planteato qua il Tari Caps, per un discorso legato soprattutto all'asciuta selettiva. Ovviamente stiamo asciugando senza antibiotici. Il Tari Caps ti permette di asciugare le vacche, migliorare l'immunità, prevenire l'infezione, fare un apporto importante di integrazione. Ma anche la vacca, in azienda che sta utilizzando l'asciuta selettiva, se c'è un 15% di vacche che deve asciugare con antibiotico, il Tari Caps ti permette anche asciugarla al momento giusto. Perché forse una vacca che ha un istorico di mastiti, ma al momento dell'asciuta si deve fare l'antibiotico per i problemi che ha avuto prima, ma se arriva con 35-40 litri lì, latte, tu puoi fare il trattamento con antibiotico e poi il Tari Caps per sistemare questa vacca, asciugarla e fare un input di integrazione. Per quello è un discorso che sta entrando molto bene in tutti i protocolli di asciuta delle nostre aziende. E già solo per finire, non vi prendo più tempo da portare a casa, ricordate che stiamo parlando di un prodotto che oggi è legale. Con tutto il discorso che è uscito all'inizio dell'anno, oggi utilizzare a tappeto di antibiotico già non è possibile nelle nostre vacche, quindi dobbiamo trovare le soluzioni e dei protocolli che ti permettono fare una transizione all'asciuta selettiva. Poi già è un discorso di obbligo. È un prodotto anche omeopatico nel senso, non abbiamo bisogno di recetta, non è un discorso burocratico, possiamo utilizzarlo senza problema. È un prodotto molto facile da applicare. Parliamo di che un'applicazione dopo l'ultima mungitura e basta. Simplifica tanto il lavoro che dobbiamo prendere in considerazione che è facile da applicare perché è solo un volo dopo l'ultima asciuta, ma ti semplifica anche il lavoro della mungitura e il lavoro gestionale del personale in azienda. Con questo prodotto noi abbiamo bisogno di avere un piccolo gruppo separato con 6-7 vacche per 5-7 giorni a fieno, acqua, aspettando se calano il latte, ti sbagliano tutto il giro della mungitura, così è un protocollo semplice che sta funzionando. Asciuga le vacche veramente anche animali di alta produzione. E poi è un prodotto molto differenziato sul mercato, soprattutto per i discorsi che abbiamo, che abbiamo una tecnologia di liberazione e di rilascio prolungato, ma in diversi fasi per amministrare i fai bisogni delle nostre vacche in ogni punto critico della asciuta e maximizzare il ritorno economico. E un po' quello è il discorso che volevo fare vedere sul Tari Caps, spero che si abbia capito più o meno bene. È vero che il mio italiano non è nel top, quindi sicuramente qualche parola sbagliata o messo allo lungo della presentazione. Adesso, se c'è qualche domanda, qualche dubbio, possiamo valutarlo. Vediamo perché forse c'è un po' di ritardo con il fine della presentazione. Bene. Non so se è tutto chiaro, si ha capito. Ok. Puoi c'è una domanda. Mi chiedono... Spero se ho capito bene. Ah, ok. Mi chiedono se come il Tari Caps miglora la formazione del tapo di queratina nella asciuta, se si può, se utilizzando il Tari Caps, se puoi non utilizzare i tapi sintetici che stiamo utilizzando, ok, tipo, sì, tipo silicona, tipo bismuth, tipo così. Bene. In questo senso, questo discorso me lo hanno domandato tante volte. Ascoltate, noi nella Italia stiamo utilizzando, noi nella Spagna, scusa, abbiamo utilizzato in questi ultimi anni e sia il Tari Caps che il tapo sintetico che mettiamo all'asciugare. Mettiamo le due cose. Dopo l'ultimo minuti lo facciamo, il tapo e mettiamo il Tari Caps. Perché? È vero che il Tari Caps migliora la formazione del tapo di queratina, soprattutto perché abbiamo meno pressione, molano meno il latte e favorisce con l'aumento dell'immunità la formazione del tapo di queratina. Ma dobbiamo prendere in considerazione che il tapo di queratina ci vuole qualche giorno per formarlo, anche qualche settimana. Non tutte le vacche formano il tapo di queratina alla stessa velocità. Anche negli ultimi anni hanno uscito degli studi che ti dicono che una percentuale di vacche non fanno il tapo di queratina in tutto il periodo d'asciutta. Quindi noi per sicurezza, già prima stavamo utilizzando i tubetti di antibiotico in più del tapo sintetico, oggi con il Tari Caps e l'asciutta selettiva mettiamo il Tari Caps e i tapi sintetici. Per quello io penso che il discorso, dobbiamo prendere in considerazione che miglioriamo la formazione del tapo di queratina, ma noi raccomandiamo continuare ad utilizzare quello sintetico. Non so se c'è qualcuno in più. Vediamo. Buono mi ringrazia. Grazie a voi. Vi ringrazio io a voi per essere oggi qui. Mi chiedono, ok, se questo prodotto può servire anche per sostituire l'integrazione del periodo d'asciutta. Ok, bene, vediamo. Questo prodotto a livello integrazione ha un'integrazione molto completa, ma io non posso dire se puoi sostituire o no all'integrazione che stai utilizzando voi. Questo discorso deve essere un discorso che dovresti parlare con il vostro alimentarista. Che senso? In ogni azienda l'alimentazione delle vacche asciute e le integrazione sono diverse. È vero che ci sono una parte basica che dobbiamo utilizzare in tutte le aziende, ma il discorso integrazione cambia perché a volte nelle aziende, in alcune aziende stanno utilizzando un'alimentazione molto spinta per mantenere gli stessi sistema microbiano fino al parto e continuare a fare grandi cambiamenti microbici a livello ruminale. Altre aziende preferiscono fare un'alimentazione in asciutta più leggera e poi spingere nel preparto. Anche altre aziende, vi faccio un esempio per esempio, un po' in base ai forraggi che abbiamo possiamo avere un livello di potassio più alto, più basso, quindi abbiamo bisogno di un lavoro con sali anionici o no un po' in base a quello che stiamo mettendo come ingredienti propri aziendiali. Per quello l'integrazione del volo è molto completa, ma per dirti se ti puoi sostituire una integrazione aziendale non te lo posso dire, questo lo dovresti valutare con il vostro alimentarista. Noi abbiamo a disponibilità la composizione, come quella che vi avevo fatto vedere, a qualche dei nostri rappresentanti ve la possono girare e un po' in mano con il vostro alimentarista forse ti dicono che ti puoi sostituire, forse ti dicono che non sostituisci tutto, ma una parte come la vitamina E, qualche lato, possiamo mollarla della integrazione e utilizzarla solo quella del volo. È vero, devo dire, che negli ultimi tempi ci stiamo trovando in alcuna azienda che ha mollato proprio l'integrazione nelle vacche asciute, con tutto il discorso dei costi attuali a tutti i livelli aziendali, costi di materia prima e tutto, ci sono aziende che hanno mollato l'integrazione e solo fanno qualche integrazione nel preparto. In questo caso sicuramente, no sicuramente no, sicuro, ti farà l'effetto integrazione senza problemi. Infatti quello che abbiamo trovato nei nostri clienti, qualche cliente me lo parlava il mese scorso, aveva partito con il Tari Caps e le vacche di alta produzione solamente, ma mi ha detto, ascolta, adesso lo sto facendo in tutte le vacche perché ho trovato che le vacche che le sto facendo il Tari Caps non mi vanno a mangiare sui blocchi minerali che lascio in mangiatore a disposizione del gruppo delle vacche asciute. Hanno un'integrazione in mangime, ma a quelli che le metto in più il Tari Caps si vede proprio che le sta facendo qualcosa in più perché sono le uniche vacche che non vanno a mangiare, quindi l'integrazione è importante. Ma il discorso di utilizzarlo solo come integrazione deve essere parlato con il vostro alimentarista. Ok, non so se ci sono più domande. Qua uno mi chiede, che sì, ovviamente per la fotografia non sappiamo molto, che è un po' come il discorso del volo per utilizzarlo quando lo mettiamo alla vacca, se si possono utilizzare i lanciavoli convenzionali, questa è la lancia di mettere i voli. Devo dire che più o meno per fare un'idea che tutti possiamo mettere in pratica, il volo più o meno è dimensionato come quelli voli del Kextone, quindi un lanciavolo di questo tipo standard che ti servono tipo Kextone o così, ti servono anche per mettere il Tari Caps, le dimensioni sono uguali, più o meno. La tecnologia è diversa ma parliamo del stesso discorso. Ok, non c'è più di domande. Ah, mi chiedono anche, sì, questa, si con i voli si devono anche mettere le vacche a acqua e fieno prima o si possono mettere direttamente in la città. Bene, noi le stiamo mettendo direttamente in la città. veramente, noi le vacche, come aveva detto prima, anche con un'alta produzione, noi quando arriva il momento di asciugarle, facciamo l'ultima mungitura, mettiamo il volo, mettiamo i tappi, la mandiamo in un gruppo di asciutta. Ovviamente, io sempre lo dico, sono vacche, è un discorso fisiologico, non sono macchine che sono proprio al 100% di risposta, quindi dobbiamo anche controllare le vacche i primi giorni, uguale che quando una vacca la mettiamo a fieno e acqua per 15 giorni, non riusciamo a farla calare di 40 litri per un discorso ormonale o di risposta di produzione, anche con questo dobbiamo trovarlo, ma posso dire che, non so, per dare una cifra, non so, una cifra in mano, 80-85% anche nel 90% della vacche, si vede proprio che dopo uno o due giorni di mettere il volo, la vacca sta molando il latte, sta abbassando la pressione della mamela senza problema, questo sicuro, l'abbiamo provato. Ottimo, penso che non ci sono più domande, penso che no, bene, e anche adesso, ah, ok, mi è arrivato anche un'altra domanda, mi chiedono se si può usare anche quando deve essere fatto un antibiotico, sì, questo l'aveva detto prima, infatti, noi quando abbiamo parlato, quando abbiamo partito, scusate, il mio italiano ha già detto che non è il migliore, noi quando abbiamo partito nella Spagna, già due anni, due anni e mezzo fa, a utilizzare questo tipo di voli, abbiamo spartito utilizzando anche l'antibiotico, noi abbiamo spartito per il discorso di asciugare le vacche di alta produzione, nel senso, come vi ho fatto vedere prima, con i grafici di produzione, un po', produzione con questa lattazione, in base ai giorni in asciuta precedenti, noi abbiamo cominciato a utilizzare i voli, per il discorso di riuscire a asciugare le vacche al momento giusto, e stavamo s'utilizzando anche con l'antibiotico, non c'è nessun problema, quindi, oggi, prende più importanza ancora, per tutto il discorso, la asciuta selettiva, perché prima, se con l'antibiotico, riuscivamo a asciugare una vacca con 28 litri, oggi forse dobbiamo andare a 22, quindi, con la asciuta selettiva, il Tari Caps, si copre tutti gli aspetti di prevenzione, ma è vero, che come aveva detto prima, nella percentuale di vacche, che dobbiamo fare l'antibiotico, perché hanno un istorico di mastiti, di cibola o così, e il nostro veterinario ti raccomanda fare l'antibiotico per recuperare il discorso della vacca, possiamo utilizzare anche il volo, ovviamente, perché il volo ti farà molare, eliminare il latte, sgonfiare la mammella, fare una messa in asciuta più corretta, con meno stress per le vacche, anche aumentare l'immunità, perché se noi stiamo utilizzando l'antibiotico per trattare una vacca con un istorico di mastiti o cellule alte, in più le mettiamo il volo, che riusciamo a asciugarla meglio, e il volo le aumenta l'immunità, la risposta al trattamento in asciuta sarà ancora più alta, quindi, sempre è raccomandato fare il volo anche con l'antibiotico. Ok, penso che non mi hanno arrivato più, ma mi chiedono anche di quanto aumenta la qualità del colostro. bene, e non vi posso dire un numero proprio, nel senso, non vi posso dire se di una media di 25 di qualità del colostro ti salta un 32 o un 40, e le prove che si hanno fatto, la qualità del colostro aumentata è molto alta. sicuramente il fabbricante ha qualche studio di questo, se chiedete al vostro rappresentante CEMEX nei prossimi giorni tramite il vostro rappresentante, cerco di trovare se c'è qualche proprio discorso giusto su quanto aumenta la qualità e vi lo facciamo arrivare, ma adesso come numero proprio no, la media te l'aumenta in modo importante, ma non ti posso dire un numero proprio proprio giusto. So che c'è qualche studio fatto, penso che la Francia, lo abbiamo visto, si hanno fatto degli studi a livello colostro, sia come qualità di colostro che come miglioramento della supervivenza dei vitelli nei primi giorni per questo colostro, lo hanno fatto sia nelle bacche che penso che hanno fatto qualche prova anche nelle capre, ma di memoria non te lo so dire, ma ci lo possiamo girare, se mi fa la domanda in qualche giorno ce lo troviamo. Ok, qua mi è entrata un'altra domanda di se uno lo usa quando mancano solo 30 giorni al parto, ovviamente quando abbiamo fatto una sciuta già tardi, solo 30 giorni al parto, si può dare problemi sulla messa in latte e secondo me no, no, sicuro che no, non c'è problema per un discorso perché se ricordate un po' il grafico che vi ho fatto vedere prima sul discorso di come lavora la tecnologia Taricaps, la riduzione della produzione del latte e l'effetto antinfiammatorio sulla mamela che lo fa proprio la riduzione della produzione nei primi 2-3 giorni e l'effetto antinfiammatorio nei primi 8-10 giorni quindi anche ci arrivi fino ai 15 giorni poi per la produzione di latte secondo me non ci arriva non ci arriva l'effetto antinfiammatorio di riduzione ti arrivarà tutto quello discorso del volo che ti apporta l'integrazione minerale con i luogo alimenti e la vitamina E ma l'effetto antinfiammatorio proprio nei primi giorni non dovrebbe avere nessun problema infatti qualche vacca te lo dico perché di solito lo normale che una vacca che ti arriva già 30 giorni dal parto sicuramente avrà calato il latte e non avrà una produzione tan alta ma sì che è vero che al contrario abbiamo fatto il Taricaps in vacche che ti avevano ci avevano assugato forse a 50 giorni dal parto e forse ha anticipato qualcosa il parto che ha portato gemelli o qualche discorso del genere e no non abbiamo avuto problemi nella messa in latte hanno partito normale penso che in questo senso non ci sono i problemi ok un'altra domanda è se non mettiamo i tappi in quanto tempo chiude il capezzolo quello avevamo parlato prima e non c'è un periodo non possiamo dire un periodo perché anche tutti gli studi che si hanno fatto negli ultimi anni non riescono a farti un tempo determinato perché l'unica cosa che ti possono dire gli studi è che è un discorso legato proprio al discorso fisiologico della vacca nel senso ci sono delle vacche che dopo pochi giorni già vedi che è proprio chiuso il tapo di keratina e altre vacche hanno bisogno di due tre settimane e anche come aveva detto prima ci sono delle vacche che in tutto il periodo di asciuta è una percentuale bassa ovviamente ma in tutto il periodo di asciuta non riescono a fare neanche un tapo di keratina non chiudono il capezzolo con la keratina per quello non c'è un giorno proprio se devo pensare quando si chiude con il tapo di keratina possiamo mettere una media non so sette dieci giorni ma vi lo dico a occhio dipende un po' ogni gruppo di asciuta forse lo fanno un gruppo lo fanno un altro e ti varia qualche giorno in più o in meno ma dipende un po' della vacca non tutte le vacche chiudono uguale ok penso che non ci sono più penso che non ci sono più domande perché saranno un po' di qualche comunque più me ne abbiamo risposto alle domande principali se c'è qualche domanda qualche dubbio anche poi arrivata alla casa o domani quando stai lavorando ti salta in mente Ostri non hai chiesto questo tramite il vostro rappresentante potresti fare la domanda che lui la gira e rispondiamo al più presto possibile anche via diretta con la Semex via Facebook via mail se avete qualche domanda qualche dubbio anche se cominciate a utilizzare dei prodotti ti saltano i dubbi dei protocolli così siamo alla vostra disposizione per per qualche domanda niente spero che sia di aiuto questa presentazione vi ringrazio a tutti per per l'assistenza e niente un saluto a tutti ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti.